Rivalta lancia Bieri che tenta una confusione e la rete! Incredibile! La rete di Bieri che scelga il primo gol con la maglia nella curva sentendo un giro impossibile dai 30 metri ha festato fuori dalla porta il portiere e ha fatto un gol più formidabile ma certamente Lunga con la posizione ha fatto un gol per la campione ora verrà munito certamente perché si è tolto la maglia ma credo che la sua risultanza è già comprensibile Devenne champion del mondo del football! Devenne champion del mondo del football! Devenne champion del mondo del football! I центri Bieri di Bieri che si chiara il permito di farlo per lehargi Nidia Fuuta 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 Buu Da mema eh ce negóciola di Kinabali sarà cheilly Tu especially ti per l'amore il lässturzeection e i portare! Fuuta 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 Chaos Tapè sull'abalon, tapè sull'embozzina Foutbol! 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 La chuma foutbol! 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 La chuma foutbol creare Tollamaradona! Tollamaradona! Buongiorno La corsa isata terminé, ma ragona n'est n'y un po' Le musigh i tannier La cusa, ma boobo crema La cusa, ma boobo crema Ma cusa, la trama, la boobo crema La bontent切à parru, le garbi ha è battu Ma il ha tui né Bikini le mach, il ha tui La cusa, ma boobo crema 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 Sì, 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 sì Grazie a tutti! A parte il traversone di Doni, nel tentativo l'ha rovesciata, la rete! La rete da parte di Loria! Di Loria un grandissimo gol in rovesciata! Quindi Diodina incredibile nel giro di tre minuti l'Atalanta ha pareggiato il bravissimo Loria ha fatto un grandissimo gol!